salve a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e continuiamo l'ultimo torneo che stavamo facendo pescando veramente quindi iniziamo il torneo di pesca e ora lo facciamo nelle fontanelle ecco sto odiando questa cosa bravo bravo senti mi piace direte video iscrivetevi al canale se siete nuovi e date un bacino a hildan non lo voglio un bacino abboccato sto amo signor hildan è molto free and the family come potete vedere abbastanza dai non ci sto capendo più niente faccino di avvilamento non lo so non ci sto capendo più niente signorina weeper non sono riuscito a pescare un pesce contatto che se mi fastidire i pesci scappano ok da voi una carota come si fa con questi pura una carota molto succulenta non riesco a vedere più il lamo io vado a pescare la vasca grossa qui non c'è poco questi distrattori qua stradino ma ha fatto distrarte pensavo fossero le bolle arrivando il pesce riesco più a distinguere sono le bolle dei pesciolini eccolo dai no l'hai tesa ci nasce la testa ma sono gli occhiali ma che cosa il pece in testo è una brutta cosa basta non sono discorsi e' arrivato due volte qui però beh no a bocca dai no grazie venga da me а qui e che? no 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 ce n'avevi uno l'altro è il tuo aspetta di mettermi torte intorno scusi signor modico perché c'è un pesce che dondola sotto le casue gambe? vieni il danna non dica queste cose ho detto un pesce evviva io ho preso l'ultimo poco ok ho capito che cosa sta facendo ma non te lo dico io ho finito vado a dare caramelle e un altro magikarp sempre in testa e perché mi hai galleggiato in testa? dai ecco qua e mancava quello lì che mi girava intorno tutta la il restante è partita aspetta mi sono fregato della cosa non ho mai pescato in modo così difficile lo devo ammettere davvero? è interessante la cosa invece non è possibile signor il danna ci uscirò? no mi hai fermato non è stato l'altro garello mi sa sarà fattibile pescare così? ma chi è che mi ha? scusa no guarda che cosa vuole fare questo questo monorotaio monorotaio è giusto per non dire cose non freandini non femmini ce la vuol dire ok un altro pokemon l'ultimo l'ho preso ci siamo riusciti siamo riusciti ho preso l'ultimo pokemon serio? poco avevo finito la monorotaia? si mi sembra giusto ma guarda che cavolo stavano facendo ma te pare che io mentre potenzio i pokemon e voi mi mettete a fare queste cose? ma questo è il rainbow questo è un'implicità occulta ma è adatto a tutta la famiglia questa hai ragione e siamo pronti per la battaglia abbiamo fatto le squadre dai vai vediamo come andrà allora io direi di cominciare così e poi se l'hai fatto pure shiny la schifosina come hai fatto? l'ha creato l'ha fatto diventare shiny la bacchetta maledetta cittona basta qua mi gioco il tutto per tutto vai mi gioco il tutto per tutto saluta seaking no devo farlo prima ho giocato male e allora ti prendi della mia bestia no non vale guarda c'ho shiny poi per Geridos e poi lo vedi com'era ma che succede? scusi non ho fatto niente ahia io invece l'ho fatto male eh si ice fang io vado a controlla cosa stanno facendo quei due eh mi sa che me lo ammazzi perché è rosso è come le ferrari guarda io sta per morire male no che botta ok comunque è più bello rosso secondo me hanno fatto molto bene è carino proviamo che brutto è bruttissimo no come ho mancato perché non l'hanno è che hai fatto tipo per forcorno no io ho fatto ford drill no dopo l'ho fatto adesso l'ho fatto guarda io vado a voi the attack giusto che ero dosso e confuso ahia che ero dosso a voi dall'attacco non lo fa ormdrill no mi servisci sempre non male sì perché c'è una proprietà su tanti ti prende mandami che posino quank cos'era swank traduca swank io vado questo questo è swank miseria ma io ho mangiato tio questo è quello zombie raga ma hai fatto a fallo gioco ma l'ho fatto io è venuto da solo prima era normale ve lo giuro bellissimo ma che io non lo vedo a me lo vedo nel video come hai fatto scusa non lo so ma hai dato fuoco si è morduga mi ha dato fuoco prima ma ti ricordi quando mi hai detto decido fuoco è vero guarda che roba vabbè ehm ma dovremmo così non si fa niente io li vedi come è cioè so curiosissimo lo vedo solo da dietro ma io e della faccia aspetti guardare i pokemon da dietro vabbè non è friend of family eh hyper beam eh crack la mostra è vantaggiosa perché poi per di forno ecco il gheritas morì era già morto ecco un altro questo però non è shiny per fortuna non è zombie non è niente perché non ha attaccato è per quello che è più pericoloso hai fatto dentennare aia ebbè anche questo che si usa morzo dolore lina queenfer io non le vorrei dire niente ma crunch e sgranocchio infatti è sgranocchio no morzo no hai usato crunch crunch e sgranocchio ma l'inizio è stato morto ma perché ce l'hai tutte e due certo ma perché che uno dentenna l'altro no sì no uno abbassa la difesa sì uno abbassa la difesa e uno fa dentennare sei un nabbo come vi permettete te lo stai facendo dire da mordog poi aia aia adesso sgranocchio in faccia quello faceva male ogni tanto capita aia posso oddio questo è piccolissimo e io sono il mini gheritos come quello di mordog allora che sono queste cose non si dice non detto niente di particolare però fa male perché fa male guardate il piccolo non bisogna mai sottovalutare dalle dimensioni eh sì infatti dipende da come lo usa guarda vedi vedi aia vedi vedi fa male sto cosetto guarda il cosetto ciao guarda il cosetto che sta a morire però eh ho capito tanto tanto che stai sotto davvero tutto pokemon no non sto tutto pokemon sì sì no no non sto sotto sicuro oppela abbiamo un po che c'ho qui ma c'è solamente chiara cosa che è è usciti questi sono usciti tutti chiari addosso un seeking ma è vero io c'ho tu seeking porca vacca questo qua non è molto forte e niente ciao signor chiarados ho iper bim altro sgranocchio e e e e morduk si porta una vittoria a casa e e morduk al suon di sgranocchi signorina quimfe va 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 chi è che ha vinto contro hildan hildan ecco ha vinto hildan no ho vinto io va bene dai ragazzi avete visto questa puntata della pixelmon lucky dip speriamo che vi sia piaciuta lasciate i dati mi piace condividete le schede al canale sd nuovi e ci vediamo con la finale con gli stessi pokemon che avete visto adesso contro e contro i singer e ci vediamo alla prossima puntata ma guardate che figo ciao ciao ciao